I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno hanno apposto questa mattina i sigili e chiuso il salone del parrucchiere di via Posidonia a Pastena, dove un presunto malfunzionamento della caldaia ha provocato la fuoriuscita di monossido di carbonio, intossicato due bimbi di 2 e 4 anni e le rispettive mamme, una delle quali in stato di gravidanza. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La signora in gravidanza si trova ora ricoverata in cura presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi da Raguna di Salerno, mentre le altre vittime dopo un primo intervento presso i Ruggi sono state trasportate all'ospedale Santo Bono di Napoli e sottoposte al trattamento con la camera iperbarica. Oggi sono fuori pericolo di vita mentre i carabinieri guidati dal comandante Antonio Corvino stanno eseguendo tutte le indagini con il supporto dei vigili del fuoco per capire anche se ci sono responsabilità sulla mancata revisione dell'impianto termico obbligatoria per legge. A raccontarci cosi è accaduto all'interno del salone di acconciatura è proprio Nunzia, la donna in stato di gravidanza al nono mese in attesa di un bimbo e che questa mattina è stata sottoposta al secondo trattamento in camera iperbarica presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi da Raguna. Signora Nunzia, innanzitutto come si sente? Io al momento mi sento bene, fortunatamente il pericolo credo che sia passato, spero che anche mio figlio sta bene, la bambina. È stata una grande paura, un grande spavento, voi non vi siete accorti praticamente di niente? Io no, mio figlio ha iniziato ad accusare il malessere, diceva mamma mi gira la testa, però io avevo stato valutato perché un bambino di tre anni e mezzo ho pensato che fosse stata una cosa così passeggiata. Mentre eravate ancora nel negozio? Sì, sì. Poi abbiamo dato un po' di acqua e zucchero, il bambino si è seduto e mangiava delle patatine normale. Quando poi la bimba, l'altra di due anni e mezzo, stava nel passeggino che dormiva, ha iniziato a fare cose da pazzi, come se fossero state crisi epilettriche. La mamma l'ha presa, ma la bambina ha perso subito i sensi e poi io mi sono divulgata vicino a mio figlio, io ho chiesto se si sentiva bene. Avete capito che stava succedendo qualche cosa e avete deciso di venire in ospedale? Sì, sì. Allorché mio figlio mi è svenuto in braccio, la bambina è svenuta fuori, mio figlio è svenuto in braccio, senza sensi. Una tragedia. Una tragedia. Inaspettata. Lei era già cliente di questo salone, non era mai successo niente? Mai. È la prima volta che vado dal parrucchiere, non andrò mai più. Morito per non piangere, però è la prima volta che ero andata da lui. So che lei si sente anche di voler ringraziare i medici perché il loro aiuto è stato fondamentale per salvare lei, per mettere in sicurezza il bimbo che è in grembo e poi per decidere di portare i bambini a Napoli dove hanno avuto le ulteriori cure. Sì, mi voglio complimentare con la pediatria del San Leonardo, l'equip della Camera Iperbarica e tutta l'equip della pediatria del Santo Bono che comunque da una tragedia fortunatamente è finita.